E' un disc jockey? No. E' un PR? No. E' un qualcosa di più. E' un vocalist, ma neanche. E' Franchino. Oh sì, Franchino. Questo è bello. Francesco Farpa! Il nostro corso è tradizionale. 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 E' da la tecnopultorio radio! The end of the earth is upon us. Pretty soon it'll all turn to dust. So get up! Forget the past! Go outside and have a blast. The end of the earth is upon us. Pretty soon it'll all turn to dust. So get that dirt. So let's order cold! On top of the e-muts. Top 10 configuration rules! Top 10 specification rules! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.